Nei giorni scorsi sono venuto in questo posto bellissimo. Il fiume non era in buone condizioni, nonostante tutto sono riuscito a fare delle grandi catture. Oggi è in buone condizioni, la giornata promette molto bene, vediamo un poco come va. Grazie. 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 Subito una bella cannella. Grazie. Grazie. Altro bico. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Guardate che roba, bellissima. Grazie a tutti. 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 Ha tirato il modo strano per quello, eh? Grazie a tutti 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 Questo è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti